Il gruppo di artisti che si esibirà è aumentato, da 100 siamo quasi a 200, oltre 190 artisti che si esibiranno. Venerdì prossimo 14 settembre via Vittorio Veneto ad Arezzo diventerà un vero e proprio teatro di strada. Torna infatti artisti in strada per Saione, la manifestazione che era stata rinviata a maggio a causa del maltempo. Si va dal ballo, dalla danza classica, alla moderna, alla contemporanea, al caraibico, al latinoamericano. Ci abbiamo molti gruppi musicali, sia delle band che faranno musica dal melodico italiano alla rock, passando per il beat. Abbiamo il Jazz Club, abbiamo l'Accademia Dima, abbiamo l'Accademia del Teatro di Arezzo per la recitazione. Abbiamo 100% Circo che farà tutte le attività di circo, giocoleria, acrobazia, danza aerea, equilibrismo. Abbiamo gli schermidori del circolo schermistico aretino, abbiamo la magia tipica da strada con tre spettacoli su pedana e tante piccole cose lungo il marciapiede. Tutta la fila di esibizioni inizia alle 18.30 di venerdì prossimo fino alle 22.30 la sera. Su tre postazioni in contemporanea qui in Via Vittorio Veneto, tra il Bar Maggi, diciamo così, tra l'ex standa e la piazza di Saione e in contemporanea su un palco in Campo di Marte, nei giardini di Campo di Marte, dove ci saranno le band musicali. Assolutamente aperta a tutti e nessun biglietto. Tutte le esibizioni sono gratuite. A margine della manifestazione degli esercenti si occuperanno anche di fare dei punti di ristoro, per cui ci sarà anche la possibilità di sgranocchiare qualche cosa. Insomma, mi sembra una bellissima occasione per tornare a fare due passi a Saione.